ciao a tutti ragazzi e bentornati su the guardians io sono splash buon natale a tutti oggi è venerdì 25 dicembre quindi vi faccio tantissimi auguri di buon natale ovviamente mangiate tantissimo giocate tantissimo e divertitevi un fottio e riposatevi in questi giorni di vacanza oggi siamo qui con il solito appuntamento delle esotiche della settimana potete vedere che xur è qui di fronte all'oratore e andiamo quindi a vedere che cosa ci regala per questo natale dunque per prima cosa ci da armamentarium pezzo che finalmente è arrivato con l'update dall'anno 1 pezzo veramente fondamentale per il pvp per il titano solo un'altra cosa è il perk intrinseco di armamentarium che ci fa ottenere una granata aggiuntiva poi questo pezzo ci aumenta o disciplina o forza abbiamo un aumento di munizioni speciali o di munizioni pesanti recupero del vuoto e armatura del vuoto davvero un ottimo pezzo consigliatissimo per il pvp passiamo al cacciatore dove abbiamo le ossa di eao una un'armatura gamba esotica appunto che ci ci dà come perk intrinseco il balzo in regolare ovvero potenzia doppio salto con un salto aggiuntivo quindi si potrà utilizzare il triplo salto anche ad esempio con la lama danzante in più ci fornisce un aumento di intelletto o di disciplina abbiamo più munizioni per fucili di precisione o per i mitragliatori e infine doppietà di vuoto che aumenta per 5 secondi in seguito ad una doppia decisione da vuoto l'agilità del nostro cacciatore non è un pezzo onestamente fondamentale io per il momento se avete poche strane monete lo eviterei cosa che farò effettivamente anche se ne ho tante però magari più avanti quando sarò alle ultime esotiche da recuperare lo comprerò per ora io onestamente lo terrei lì dove per ultimo abbiamo l'ariete un casco esotico per lo stregone che deriva se non ricordo male dall'espansione del casato dei lupi davvero bellissimo secondo me esteticamente vediamo un po che cosa ci propone abbiamo forza dell'ariete con cui abbiamo un'armatura aumentata e con cui infliggere attacchi corpo a corpo con camminatore del vuoto fornisce furto di vita abbiamo un aumento di disciplina o di forza in realtà credo solo di forza perché disciplina segna zero mani nel sacco ovvero uccidere i mostri dell'oscurità col corpo a corpo fornisce super energia bonus e carico pesante la stessa cosa però con le munizioni pesanti rimigorimento comunque abbiamo energia bonus al corpo a corpo quando si raccoglie una sfera di luce quindi molto incentrato sulla forza quindi diciamo che l'aumento di forza ha anche un senso in questo caso non lo so secondo me ci sono pezzi migliori soprattutto per la sottoclasse del vuoto però può piacere come può non piacere onestamente non mi sento di sconsigliarlo ma nemmeno di consigliarlo vedete un po voi di decidere se avete tante strane monete ovviamente per collezione potete anche comprarvelo andiamo poi a vedere l'arma della settimana che è il multi strumento mida io non l'ho ancora preso è un fucile da ricognizione che conosco molto molto bene dal day one di questo gioco era davvero forte almeno a me piaceva tantissimo adesso si dice che anche in pvp sia davvero overpower quindi non lo so direi che ve lo posso assolutamente consigliare probabilmente adesso è un acquisto davvero obbligato per tutto soprattutto questo fucile da ricognizione a terzo occhio e multi strumento mida che migliora la velocità del movimento e ha un grilletto molto sensibile a questo punto io onestamente ve lo consiglio davvero tantissimo anche perché assolutamente dicono che in pvp faccia sfaceli dopodiché abbiamo gli engrami storici per le armi pesanti che con 3 strane monete vi fornisce sicuramente un'arma pesante esotica dell'anno 1 poi abbiamo le solite curiosità con i propulsori le bobine per una strana moneta ci vengono date tre sintesi pesanti 5 3 di ori per 7 strane monete che vi permette di avere una maggiore percentuale di droppare da un ultra di fine assalto raid eccetera un engramma esotico e aghi di vetro che vi permette di praticamente riforgiare le vostre armature esotiche infine per due strane monete xxur ci propone anche una particella di luce bene ragazzi io con questo vi ringrazio ancora una volta mettete un like a questo video iscrivetevi al canale potete anche seguirci su facebook su twitter su twitch su instagram e su bungie.net dove potete trovare il nostro clan the guardian seat ancora una volta vi ringraziamo per tutto il supporto perché siamo arrivati e superati 100 iscritti vi dico subito che ci sarà un video davvero molto speciale con me e shanks che probabilmente sarà diviso in più parti per festeggiare la fine dell'anno e per festeggiare soprattutto questo traguardo dei 100 iscritti ragazzi ancora una volta tanti auguri di buon natale spaccatevi come se non ci fossero domani ma riposatevi anche e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti